25 regole della disinformazione Elusione Non vedo, non sento, non parlo. Indipendentemente da quello che sai, non parlarne, specialmente se sei un personaggio pubblico, un conduttore televisivo, eccetera. Se non viene riportato, non è accaduto, e tu non devi mai affrontare il problema. Diventa, incredulo e indignato. Evita di discutere questioni chiave e, invece, concentrati su problemi marginali che possano essere usati per dimostrare come l'argomento di altri gruppi, o temi altrimenti ritenuto sacrosanto, sia diventato invece criticabile. Questa è conosciuta anche come la mossa del come ti permetti. Inventa persone che diffondono pettegolezzi. Evita di discutere problemi descrivendo tutte le accuse, non considerare il luogo o le prove, liquidali come semplici pettegolezzi e accuse fantasiose. Altri termini sprezzanti incompatibili con la verità possono andare comunque bene. Questo metodo funziona particolarmente bene con una stampa imbabagliata, perché l'unico modo in cui il pubblico può venire a conoscenza dei fatti è attraverso dicerie discutibili. Se puoi associare il materiale con internet, sfrutta questo fatto per dichiarare che si tratta di un pettegolezzo infondato proveniente da un gruppo di ragazzini su internet che non può avere nessun fondamento su fatti concreti. La logica di Alice nel Paese delle Meraviglie. Evita la discussione dei problemi ragionando a ritroso o con un'apparente logica deduttiva che tralasci ogni fatto concreto. Confondere. Invoca l'autorità. Reclama autorità per te stesso, o chiama in causa qualcuno che abbia autorità e presenta la tua tesi con linguaggio tecnico e sottigliezze, sufficienti per mostrare che sei uno che sa, e di semplicemente che le cose non stanno così, senza discutere i problemi nel merito, o dimostrando concretamente il perché, o citando fonti. Fai finta di non sapere. Non preoccuparti di fornire prove o argomenti logici, evita di discutere i problemi tranne che con la negazione che tali questioni abbiano qualche credibilità, qualche scopo, forniscano qualche prova, contengano odieno un senso, abbiano una logica. Mescola bene per il massimo effetto. Cronaca più importanti, o presentale come se lo fossero, per distrarre la gente. Attacca. Utilizza un fantoccio. Trova o crea un elemento credibile della tesi dei tuoi avversari che puoi facilmente abbattere per farti sembrare dalla parte della ragione e mettere in cattiva luce l'avversario. Oppure tira fuori una questione della quale puoi con sicurezza insinuare l'esistenza basata sulla tua interpretazione dell'avversario, e, o, degli argomenti dell'avversario, e, o, della situazione, oppure seleziona l'aspetto più debole delle accuse più deboli. Amplifica il loro significato e distruggile in un modo che sembri ridicolizzare, allo stesso modo, tutte le accuse reali e costruite, evitando inoltre che la discussione si sposti effettivamente su problemi concreti. Distrai gli avversari con insulti ridicolizzandoli. Questa è conosciuta anche come la tattica fondamentale attacca il messaggero, anche se altri metodi si qualificano come varianti di quell'approccio. Associa gli avversari a titoli impopolari come pazzi, conservatori, liberali, di sinistra, terroristi, fanatici della cospirazione, radicali, fascisti, razzisti, fanatici religiosi, maniaci sessuali e così via. Questo spingergli altri a ritirarsi dal sostenerli per paura di venire etichettati allo stesso modo, e tu eviti di confrontarti con i problemi. Colpisci e scappa. In ogni forum pubblico, fai un breve attacco ai tuoi avversari o alla posizione avversa e poi scappa via prima di ricevere una risposta, o semplicemente ignora ogni risposta. Questa tattica funziona benissimo su internet e nelle lettere alle redazioni dove un flusso regolare di nuove identità può essere utilizzato senza dover spiegare critiche, ragionamenti, semplicemente lanciando accuse o altri attacchi, senza mai discutere problemi, e senza mai rispondere ad ogni replica successiva, perché quello darebbe dignità al punto di vista degli avversari. Associa le accuse degli avversari con vecchi avvenimenti. Una tattica derivata da quella del fantoccio, di solito, in qualunque situazione dove si abbia grande visibilità, qualcuno all'inizio farà accuse sulle quali si può discutere o si è già probabilmente discusso, un tipo di investimento per il futuro qualora la situazione non fosse facilmente controllabile. Dove puoi prevederlo, crea un problema fantoccio e trattalo come una parte contingente del piano iniziale. Le accuse successive, indipendentemente dalla loro validità o dalla scoperta di nuovi elementi, possono poi di solito essere associate con l'accusa originale e liquidate come un rimaneggiamento della stessa senza bisogno di affrontare problemi attuali, ancora meglio se l'avversario è, o è stato coinvolto, con la fonte originale. Richiedi soluzioni complete. Evita le questioni chiedendo agli avversari di risolvere totalmente il problema, tale strategia funziona meglio trattando temi del tipo. Associa alle accuse agli avversari vecchie notizie. Impressiona, contrasta e pungola gli avversari. Se non puoi fare nient'altro, rimproverai schernisci i tuoi avversari e trascinali a risposte emotive che tenderanno a farli sembrare stupidi ed eccessivamente motivati, e generalmente rendono il loro materiale in qualche modo meno coerente. Non solo eviterai di dover discutere i problemi in prima istanza, ma inoltre se la loro risposta emotiva riguarda la questione, puoi evitare ulteriormente i problemi focalizzandoti su quanto siano suscettibili alle critiche. Falsifica Metti in dubbio le ragioni. Distorci o amplifica ogni fatto che può essere utilizzato per insinuare che l'avversario agisce in base a secondi fini nascosti o altre faziosità. Questo evita che si discuta dei problemi e costringe l'avversario sulla difensiva. Crea e fai affidamento su una via d'uscita. Utilizzando un aspetto o un elemento secondario del problema, segui la retta via e confessa con candore che qualche errore in buona fede, col sinno del poi, è stato commesso, ma gli avversari hanno preso la palla al balzo per ingrandirlo in modo esagerato ed insinuare il dubbio di un reato più grave, solo che non è così. Altri in seguito possono rafforzare questa tesi a nome tuo, ed anche chiedere pubblicamente che si ponga fine alle dicerie perché tu hai già fatto la cosa giusta. Eseguita in modo corretto, questa tattica può farti ottenere comprensione e rispetto per aver detto la verità e confessato i tuoi errori senza dover affrontare problemi più seri. Adatta i fatti a conclusioni alternative. Questo richiede di pensare in modo creativo, a meno che, il crimine non sia stato pianificato con idonee previsioni dei possibili sviluppi. Crea prove false. Dove possibile, presenta fatti nuovi e indizi progettati e creati per essere in contrasto con quelli presentati dagli avversari, come strumenti utili per neutralizzare problemi delicati o impedirne la soluzione. Questo funziona meglio quando il crimine è stato progettato tenendo conto delle peculiarità adatte allo scopo, e i fatti non possono essere separati facilmente dalle menzogne. Costruisci una nuova verità. Crea il tuo esperto, esperti, gruppo, gruppi, autore, autori, leader, leaders, o condiziona qualcuno già esistente disposto a forgiare una nuova verità tramite ricerche scientifiche, investigative o sociali o una testimonianza che si concluda a tuo favore. In questo modo, se devi effettivamente affrontare i problemi, puoi farlo con autorevolezza. Nascondi le prove Fai sparire prove e testimonianze. Se non esiste, non è un fatto e tu non dovrai affrontare il problema. Fai appello a un grandiori, a un procuratore speciale, ad un altro corpo investigativo autorizzato. Sobverti, il processo, a tuo favore e neutralizza efficacemente tutti i problemi più delicati, senza una discussione aperta. È necessario che le prove e le testimonianze, se trattate correttamente, restino segrete una volta raccolte. Per esempio, se controlli il procuratore, questo può assicurarti che il grandiori non prenderà in esame le prove più utili ed anche il loro occultamento in modo che non siano disponibili per gli investigatori. Una volta che hai ottenuto un verdetto favorevole, la questione può essere considerata ufficialmente chiusa. Di solito questa tecnica è applicata per far assolvere un colpevole, ma può essere utilizzata anche per acquisire accuse quando si cerca di incastrare un innocente. Fai tacere i critici. Se i metodi più sopra non funzionano, valuta la possibilità di togliere gli avversari dalla circolazione con qualche soluzione definitiva in modo che non ci sia più bisogno di affrontare i problemi. Questa soluzione può essere le loro morte, l'arresto e la detenzione, il ricatto o la rovina della loro reputazione con la diffusione di informazioni compromettenti, o semplicemente puoi distruggerli dal punto di vista finanziario, psicologico o danneggiare gravemente la loro salute. Sparisci. Se custodisci segreti chiave o sei comunque al corrente di dettagli non noti e pensi che il calore stia diventando insopportabile, per evitare guai, esci dalla cucina. Michael Sveni è un autore, editore e consulente specializzato in crimini dei servizi segreti, in tutela della privacy e sicurezza. Meglio conosciuto per Professional Paranoid, una collana di saggistica su questi argomenti, ha anche pubblicato Fatal Rebirth, una serie di romanzi in quattro volumi che esamina i legami fra terrorismo e i fantasmi apparentemente casuali del passato politico americano. Grazie a tutti.